buongiorno a tutti oggi mi trovo sul lungomare di sabaudia ai piedi del monte circeo giornata di relax che a breve finirà perché proprio tra due ore salirò il picco del monte per ammirare questa meravigliosa costa dall'alto ma nel frattempo la cosa che ci aspetta più di tutti ed è importantissimo è un bellissimo bagno in queste acque raga relax appena terminato si prende il settiero 750 che tra due ore e mezza ci porterà sul picco della maga circeo dopo 40 minuti questo è il primo punto del vedere del monte ci siamo quasi il picco eccolo lassù allora adesso vi faccio vedere un attimino casa sul picco circeo questa è la porta un bel alloggio anche l'amaca e poi eccoci qua tutta la costa quasi ora del tramonto l'itinerario di torre paolo è qualcosa di fantastico infatti è il più panoramico e come avete ben visto una volta che sei salito sul picco godi di una vista incantevole anche se il percorso è un po' difficoltoso perché in alcuni punti ti devi aiutare con le mani che devi scalare delle parti rocciose ma il pezzo più bello raga ciao 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 ciao